In questo video ti mostrerò l'esatto processo di come poter utilizzare l'intelligenza artificiale, un computer, una connessione ad internet e un'ora del tuo tempo per crearti un secondo stipendio mensile, letteralmente a costo zero. Bentornato, bentornata sul canale. Se sei nuovo benvenuto, io sono Nico Cimmino, un e-commerce expert da più di sei anni. Ho lanciato centinaia di store di successo attraverso piattaforme come Amazon, Etsy e ho aiutato migliaia di persone, proprio come te persone semplici, a costruirsi una seconda entrata attraverso l'online. Ora quello che ti chiedo è di concentrarti, prenderti qualche minuto, spegnere il telefono, mettere da parte un attimo i social e concentrarti sulla visione di questo video, perché questo video, come tutti gli altri all'interno di questo canale, non farà altro che darti puro valore, cosa che nessuno in Italia fa. Quindi se stavi cercando delle informazioni per quanto riguarda Etsy, per come vendere prodotti digitali sul mercato, questo è il canale di riferimento italiano per te. Quindi ti invito ad iscriverti a questo canale, a seguirmi, a lasciare un like e a commentare, quindi farmi sapere cosa ne pensi o magari darmi degli spunti per nuovi video che magari potrebbero aiutarti nella tua situazione. Come detto, adesso ti porterò all'interno del mio computer e ti mostrerò esattamente qual è la procedura step by step per creare un prodotto digitale che andremo a trovare con l'aiuto di alcuni software, dopodiché andremo ad utilizzare ChatGPT e alcuni tool, tutti in modo gratuito. Ci tengo a ripetere che in questo video ti mostrerò come creare un prodotto digitale letteralmente a costo zero, senza spendere un singolo euro. Non ci credi? Allora resta fino alla fine, perché sto per mostrarti qualcosa di veramente incredibile. Eccoci qua all'interno del mio computer, partiamo da questo software, ovvero chiamato Etsy Hunt, che è strettamente collegato ad Etsy. In poche parole ti permette di filtrare attraverso questa barra di ricerca, inserendo delle keyword relative ad una nicchia o ad una categoria di mercato su Etsy. Io ho scritto Coloring Page, che sarà probabilmente il topic di questo video, e ti dà tutti i prodotti, chiaramente io l'ho ordinato da quello che vendete più o quello che vendete meno negli ultimi sette giorni. Quindi qua abbiamo una sorta di scaletta appunto di quelli che sono i prodotti che andremo a vedere tra poco. L'altro software si chiama Alura. Sia Alura che è Etsy Hunt, li ho spiegati nei precedenti video, quindi se è la prima volta che guardi uno dei miei video, guardati tutti i video precedenti per andare a trovare il video dove ho parlato dettagliatamente di questi due software. Sostanzialmente io ho fatto sia adesso un account su Etsy Hunt gratuito senza abbonamento e un account gratuito su Alura senza abbonamento, per mostrarti esattamente che si può andare a fare delle ricerche e delle analisi gratuitamente. Etsy Hunt, io ho già fatto delle ricerche, ma qui ti dà una decina di ricerche al giorno. A me ne è rimasta una, ma poco importa perché quello che andremo a vedere era semplicemente dimostrativo per trovare alcuni prodotti che qui possono vendere bene. Alura mi permette di andare a vedere esattamente quanto genera la parola chiave ricercata, quindi quanto ricerca volume c'è, quanta competizione, e mi permette di andare a scovare delle nicchie abbastanza interessanti qua sotto nelle similar keyword. Qui ho cercato Coloring Page e mi ha dato esattamente il volume di ricerca su Etsy, che è pari 673.000 ricerche mensili, con una competizione totale per 268.000 competitor. Ovviamente qui stiamo parlando di Coloring Page, una parola chiave di ampio raggio, quindi una parola chiave molto generica, non va a descrivere quale nicchia e sottonicchia stiamo andando a scegliere. E questo è molto importante perché potrebbe esserci Coloring Page, che è la categoria, poi c'è la sottocategoria che potrebbe essere Coloring Page for Kids, Coloring Page for Adults, e ci sono anche altre sottocategorie. Andiamo magari all'interno di una sottocategoria o magari una sottonicchia di mercato, che potrebbe essere Coloring Page, Cat, Animal, sostanzialmente possiamo andare sempre più in fondo a trovare quelle che sono le nicchie di mercato, partendo da una parola chiave così grande, che ha un volume di ricerca grande, andando poi a restringere il campo trovando una delle nicchie che ha magari sì un buon volume di ricerca, ma che abbia anche una competizione abbastanza bassa, abbordabile per accedervi. Quindi quello che ho fatto è andare qua, Coloring Page, e ho visto che comunque ha un ottimo volume di ricerca, quindi vado qua su Etsy Ant e scrivo la stessa cosa. Qui mi dà i prodotti, quindi andando un pochino a scendere qua sotto, possiamo andare a vedere cosa si vende di più. Se scendiamo possiamo vedere che ci sono diverse pagine da colorare, troviamone qualcuna facile da poter fare. Ovviamente qui possiamo andare a toccare tutti gli argomenti, quindi tu puoi sbizzarrirti a creare animali, pagine da colorare per bambini che sono a scuola, quindi puoi fare veramente di tutto. In questo caso mi ha colpito questo, Kawaii Coloring Page. Vado ad aprirmi la pagina su Etsy per andare a vedere di che cosa stiamo andando a parlare. Qua leggiamo, 50 Kawaii Coloring Page. Quello che voglio fare io è andare a vedere questa sottonicchia di mercato, Coloring Page Kawaii, per vedere esattamente quanto genera di volume di ricerca mensile e la competizione. E di fatti, guarda qui un attimo, abbiamo un ottimo volume di ricerca, quindi 22.200 ricerche mensili con 8.261 competitor. Se non lo sapessi, per quanto riguarda il livello di competizione, qual è il volume di competitività della nicchia al quale poter entrare? Quali sono i limiti? Una buona nicchia deve avere un volume di ricerca abbastanza importante, quindi dei 5.000 ricerche in su magari, è un'ottima competizione non inferiore ai 1.000 e non superiore ai 35.000. Quindi quando siamo all'interno di 8.000, 10.000, 15.000, è ottimo, perché sì abbiamo un ottimo volume di ricerca, ma abbiamo una competizione abbastanza abbordabile, che significa che se facciamo un ottimo lavoro a livello SEO di scrittura del listing, quindi il titolo, la descrizione, i giusti tag, possiamo andare ad indicizzarci a livello SEO, a posizionarci su Etsy in una buona posizione, scalando quelli che sono i competitor che stanno lì da più tempo. E quindi abbiamo buone possibilità di comparire nelle prime ricerche di questa parola chiave qui. Quindi questa è una parola chiave a coda lunga sostanzialmente, che è composta da tre parole, però che va già a descrivere quella che è la nicchia di mercato. Ora qui noi possiamo andare a vedere qua sotto delle parole chiave correlate, che ci presentano un volume di ricerca 22.000, questa è quella che abbiamo cercato adesso, però è al contrario, che fa sostanzialmente la stessa identica ricerca. Poi possiamo andare a vedere che abbiamo altre parole, kawaii coloring, abbiamo kawaii cat coloring page, che genera, che è la prima parola chiave che incontriamo più grande, più descrittiva, che descrive esattamente il tipo di prodotto, che risponde chiaramente alla domanda quale, perché se dovessi farti la domanda tu vuoi vendere coloring page in stile kawaii, ma qual è il soggetto di questa pagina? Se non sai qual è il soggetto, appunto devi andare a cercare qual è il soggetto. In questo caso la prima parola chiave incluso il soggetto è kawaii cat coloring page, che genera 3.600 ricerche mensili, di confronto a 583. Quindi se noi dovessimo partire, per esempio, con i gatti, come quello che abbiamo trovato poco fa, qui i gatti, adesso poi è una cosa che vogliamo vedere noi, vogliamo partire con i gatti, quello che dobbiamo andare a fare è cercare di utilizzare l'intelligenza artificiale per farci creare dei gatti da zero. Quindi una volta che abbiamo trovato la nostra nicchia di mercato, quindi il soggetto che vogliamo andare a creare, che poi possiamo andare a creare dal gatto, andiamo semplicemente a cercare di creare un prompt che sostanzialmente ci permetta di andare a fare che cosa? Ad utilizzare altri siti di intelligenza artificiale per creare appunto queste immagini. Per creare le immagini chiaramente abbiamo bisogno di un prompt, e un prompt che cos'è? È una descrizione testuale che possiamo scrivere noi manualmente, oppure farci scrivere dall'intelligenza artificiale, come per esempio ChatGPT o altre intelligenze artificiali che permettono la descrizione testuale. Ora in questo caso noi utilizzeremo ChatGPT, quindi può andare bene tranquillamente la versione gratuita di ChatGPT. Ti ripeto, in questo video ti sto mostrando tutto ciò che può essere utilizzato senza abbonamenti mensili. Quindi se tu vuoi partire chiaramente a crearti una seconda attività lanciando il tuo negozio online attraverso Etsy, devi trovare il modo di creare questi prodotti a costo zero, che non comportano alcun rischio. E io in questi video voglio mostrarti esattamente come procedere. Ricorda che queste sono informazioni che nessuno in Italia ti darà, perché sono informazioni che le persone pagano, ok? Pagano centinaia, se non migliaia di euro per attingere a queste informazioni. Io ho pagato per attingere a queste informazioni che ti sto dando gratuitamente. Quindi spero che il video ti possa piacere e possa tornarti utile per aprire il tuo negozio su Etsy. Continua a seguire questo video fino alla fine. Allora, portandoci avanti, quello che dobbiamo andare a fare è andare a cercare esattamente questo tipologia di prodotto per capire come scrivere un prompt. Allora, per capire come scrivere un prompt, io qua ho già preparato un prompt che tu puoi copiare. Ovviamente qui ho messo cat kawaii, ma potresti mettere qualsiasi cosa, potresti mettere anche soltanto cute animal, e di fatti poi magari lo faremo dopo. Però ovviamente qua ho messo cute cat kawaii per, diciamo, far capire esattamente che stiamo parlando di gatti e farci generare dei prompt che potrebbero andare bene per farci generare delle immagini abbastanza interessanti. Ora, quello che ho fatto, e ho scritto questo prompt, in sostanza quello che ho scritto all'interno di questo prompt è stato proprio questo. Vorrei creare un libro da colorare, jumbo a tema, cute cat kawaii per bambini con immagini semplici. Puoi darmi 37 individui unici, vabbè, ok, è scritto un pochino all'inglese. Quindi tu, quello che dovrai fare, è semplicemente copiare questo prompt che lascerò anche in descrizione. Una volta che tu hai scritto questo prompt, cosa devi fare? Non è ancora finita, perché non abbiamo ancora il prompt finito. Quello che devi andare a fare, magari andare a cercare, per esempio, sono andato su Shutterstock, ho cercato coloring cat kawaii, e mi è uscito questo set di gatti che mi è piaciuto. Quindi questa immagine l'ho cliccata e l'ho aperta. Ora non devi andare a rubare immagini all'interno di Shutterstock, ma semplicemente qua sotto c'è una descrizione che tu puoi andare a copiare e questa descrizione ci servirà. Una volta che hai copiato questa descrizione, quello che devi fare è prendere questa descrizione e andare su Copilot. Copilot è simile a ChatGPT, ma è completamente gratuito, ti permette di creare delle immagini attraverso il testo. Quindi adesso ti farò vedere esattamente come fare, puoi registrarti gratuitamente. Copilot ti permette di utilizzare ChatGPT 4 in maniera gratuita e utilizza appunto dall'I3 che è la stessa identica intelligenza artificiale che è presente all'interno di ChatGPT 4 per creare immagini. Copilot è veramente qualcosa di speciale dove puoi generare del testo come intelligenza artificiale, ti consiglio a livello testuale, ti consiglio sempre di utilizzare ChatGPT 4. Però se vuoi appunto ideare delle immagini da colorare appunto gratuite, Copilot fa per te in questo caso. Io sono andato a prendere, ricordiamoci, questa descrizione, sono andato su Copilot. Adesso tu vedi un po' di prove qua sotto perché ho già fatto delle diverse prove, ma quello che ci interessa è andare a scrivere questa descrizione qua. Non mi fa vedere più le immagini che mi ha creato, però l'ho salvata perché l'ho aperta praticamente mi aveva creato delle immagini e le immagini che mi ha creato sono state queste, ok? Quindi come puoi vedere, molto simili, ok? Quello che però mi è interessato di più è andare a copiare esattamente il prompt che poi Copilot stesso, come puoi vedere qui, mi ha restituito. Quindi sono andato a copiare questo prompt, sono andato su Traduzione e sono andato a togliere il plurale, quindi andare a mettere direttamente a Cartoon Cat or Kitten, quindi sono andato a togliere la parola Set, sono andato a mettere tutto ciò che era il plurale, praticamente qua, su Animals, ha tolto la S e in pratica sono andato a trasformare il prompt come se fosse soltanto un gatto, anziché farmi generare tanti mi viene fatto generare soltanto uno. Quindi vado a copiare di nuovo poi questo prompt qui, tutto quanto, andiamo poi su una nuova pagina. Una volta che abbiamo copiato il prompt da Google Traduttore che abbiamo modificato, andiamolo ad incollare qua e ci fermiamo un secondo. Torniamo su ChatGPT dopo che ci ha restituito questa lista e qui subito dopo la virgola Answering No Shading prendiamo tutta questa parte finale che praticamente è un'azione, una specie di arricchimento ti fa capire che cosa sta facendo, dove sta e lo portiamo qua e lo andiamo ad incollare qua sotto. Quindi cerchiamo di portare questa parte direttamente qui e facciamo Play. Da qui dobbiamo attendere semplicemente qualche secondo che Copilot vada a generarci possibili varianti e noi da queste qui possiamo scegliere o tutte e quattro o semplicemente una per poi continuare. Come puoi vedere l'effetto che ci ha uscito è veramente veramente incredibile se andiamo a vedere un attimo dai gatti che ci aveva dato dato su Shutterstock che per comprare un'immagine del genere devi spendere lire di Dio qui la puoi creare gratuitamente e non hai nessun tipologia di vincolo perché le immagini sono create da te e quindi sono tue al 100%. Quello che tu puoi andare a vedere poi dopo qua a destra se clicchiamo sull'immagine che ci è piaciuta di più per continuare sostanzialmente a stare su quella lunghezza d'onda su quello stile del disegno a destra come possiamo vedere c'è una che possiamo andare di nuovo a copiare a portare qui magari su Google Translate e vedere che cosa ci ha dato un gatto un gattino di cartone animale di cucciolo di animale disegno dal tratto illustrazione vettoriale isolata su sfondo bianco per pagina colorare qua dice un simpatico gatto praticamente la differenza la troviamo nell'ultimo un simpatico gatto con grandi occhi e un fiocco in testa quindi noi possiamo magari andare a migliorare questa parte invece che con non lo so per esempio un fiocco possiamo mettere fish in bocca e possiamo andare a prendere questo modello andarlo a provare ad incollare qua a vedere qual è il risultato che ci restituisce comunque come puoi vedere abbiamo ottenuto già un ottimo risultato quindi questa la copiamo o 1, 2, 3 ovviamente possiamo andare a copiarli tutti ma sostanzialmente magari se ci interessa il gatto in questo momento prendiamo il gatto quindi ce lo salviamo poi magari vogliamo fare anziché il gatto come abbiamo visto qua su Etsy che cosa ci dava un barattolo una tortina qualcosina del genere quindi immagini diverse qua ci sono 50 pagine tornando sull'immagine che abbiamo creato poco fa abbiamo scritto sulla bocca c'è stato un piccolo errore ovviamente andiamo a scrivere in bocca però sostanzialmente come puoi vedere qui ci sono diverse immagini che potrebbero essere carine per esempio l'ultima potrebbe essere anche carina ora essendo libri da colorare per bambini possiamo modificarli come vogliamo la prima immagine abbiamo deciso che doveva essere un gatto ma se noi prendiamo di nuovo questo prompt o il prompt di prima quindi per esempio qui abbiamo scritto a cartoon prendiamo questo prompt torniamo qua prima abbiamo scritto questa cosa invece che andare a mettere cat possiamo andare a modificare quindi possiamo mettere ok qui magari baby animal via dicendo dove c'è scritto gatto ovviamente togliamo mettiamo baby elephant con un fiocco in testa e mettiamo e l'ultima parte la andiamo a prendere magari qua che è diversa andiamo a prendere magari quest'altro andiamo a inserire qui dentro da ensuring lo cambiamo incolliamo l'altro vediamo che cosa c'è scritto con un cappello da compleanno va bene andiamo a prendere questa cosa adesso è solo questo che vedete questo che vedi è soltanto a scopo illustratore però in sostanza quello che stiamo andando a fare è una serie di immagini che poi andremo a salvarci e andarli a caricare poi in vendita su Etsy ecco qua quello che è uscito possiamo cercare chiaramente di rimanere sempre in tema quindi se vediamo che magari scegliamo questo stile qua potremmo scegliere di vedere quale tra questi può somigliare di più a quel tipo di disegno che abbiamo fatto prima quindi o questo o questo ora magari clicchiamo su questo per esempio ok vedi che rimane molto in tema questo quello che dobbiamo fare adesso è andarci a salvare quelle che sono le immagini che ci piacciono quindi andare a fare scarica qui poi andiamo sull'altra immagine quindi l'elefantino per esempio facciamo scarica anche qui possiamo continuare ovviamente facciamo magari una scimmia possiamo fare un ippopotamo una zebra quello che vogliamo se stiamo parlando di animali in generale possiamo fare tutti gli animali che vogliamo oppure appunto vogliamo fare un'altra cosa quindi magari un cupcake vogliamo fare un gelato vogliamo fare una bambola una bambina quello che vogliamo possiamo sbizzarrirci l'importante è che rimaniamo nello stesso identico tema ok quindi kawaii coloring pages ora il fatto che stiamo creando questi prodotti come puoi vedere qua abbiamo dei mockup per esempio questo prodotto è messo su una tavola di legno questa è una cosa veramente semplicissima che se chiaramente raggiungeremo almeno una cinquantina di like ti mostrerò esattamente come poter mockupizzare il tutto all'interno di Canva e andare poi a caricarlo su Etsy quindi magari farò una seconda parte di questo video per non renderlo troppo lungo voglio farti un attimo un appunto qua vediamo che il competitor ha messo 50 kawaii coloring page dentro ma nulla ci vieta a noi di poterne creare 100 150 allo stesso identico prezzo per andare a competere con loro questo perché semplicemente se noi facciamo 50 o 100 lo sforzo è lo stesso non abbiamo costi in più se andiamo a mettere 100 kawaii coloring page all'interno del nostro annuncio però ci permetterà di overdeliverare quindi se un potenziale cliente si trovassi a dover scegliere tra noi e lui allo stesso prezzo allo stesso design anzi magari con design migliori perché questo mockup veramente è ridicolo quello che ha fatto questo venditore e ti posso dire che questo è un prodotto che vende veramente tanto perché ha abbastanza recensioni quindi per avere 58 recensioni un migliaio di vendere sicuramente l'ha fatta e l'abbiamo visto pure prima su Etsy Hunt però appunto questo quello che voglio dirti è che noi possiamo andare ad overdeliverare che è una strategia per andare a differenziarci dai nostri competitor andare a mettere magari 50 70 100 pagine in più e allo stesso identico prezzo quindi il cliente dirà ok ma questo mi offre 100 pagine allo stesso prezzo compro questo quella è una modalità per andare a guadagnare sempre allo stesso identico livello del tuo competitor però avendo più possibilità di avere più clienti potenziali attraverso più clienti potenziali a te ora una volta fatto questo bisognerà andare su Canva puoi crearti un account gratuito ripeto senza andare ad investire nulla però se dovessi scegliere di investire su qualcosa io Canva te lo consiglio vivamente perché con 10 euro al mese veramente ti dà il mondo intero però appunto qua io ho scritto coloring page quando tu aprirai Canva davanti ci avrai una barra di ricerca e da lì potrai andare a digitare questa parte qui coloring page perché vogliamo avere un esempio questi qua con la coroncina sono tutti contrassegnati dal trademark ovvero se tu lo utilizzi se non hai l'abbonamento ovviamente non hai la licenza per rivendere quel tipo di prodotto quel tipo di disegno e ti comparirebbe comunque il trademark quindi il marchio sopra trasparente e sarebbe anche brutto da vedere in questo caso andiamo a scegliere un qualcosa che non ha la coroncina se non hai l'abbonamento a Canva per esempio io scelgo questo e vado a fare personalizza modello in questo caso una volta che io ho aperto questo personalizza modello come puoi vedere ci sono già delle pagine con dei disegni non possiamo andare a copiare letteralmente andarci a stampare letteralmente questi qua o meglio lo potremmo anche fare ma potrebbe correre dei rischi di violazione di copyright e ti sconsiglio appunto di scherzare su questa cosa con Etsy perché è veramente severo ora quello che ti posso dire è utilizziamo questo modello ma andiamo semplicemente a cambiare le immagini che c'è dentro quindi andiamo a utilizzare quello che ci ha dato il nostro copilot quindi la nostra intelligenza artificiale andiamo su caricamento dobbiamo andare ad inserire le immagini che abbiamo scelto prima io per esempio in questo caso ho creato il gattino e qui vado a metterci l'elefante e me lo vado ad aggiustare nella grandezza che voglio quindi posso renderlo più grande non troppo perché sennò vado fuori a sforare ovviamente qui posso andare a cambiare quello che c'è scritto dentro posso andare ad aggiungere anche altro se voglio prendere spunto per esempio posso andare qua su progetto e scrivere coloring pages e posso andare a vedere che cos'altro magari posso andare ad inserire posso andare ad inserire magari un titolo posso andare ad inserire un disegnino esterno veramente posso andare ad inserire tutto quello che voglio ovviamente se dovessi scegliere per esempio di fare una cosa del genere devo andare ad aprirmi una nuova pagina perché poi dopo me la importa direttamente qui abbiamo veramente tutto poi possiamo andare anche qui e scrivere coloring book animal per esempio e qui come puoi vedere ci dà veramente di tutto possiamo anche letteralmente andarcelo a creare noi magari io scrivo coloring elefante e poi scrivo coloring book tree quindi magari mi dà un albero ok che posso andare a mettere in lontananza posso andare a creare una piccola scenetta ok posso andare a fare un pochino tutto quello che voglio visiamo ora è un po' bruttino vista così ma ti assicuro che se vogliamo andare se voglio andare a cercare il prato metto il prato il sole le nuvole posso andare a fare tutto quello che voglio quindi posso andarla a creare letteralmente da zero oppure farmi aiutare da chat gpt e dall'intelligenza artificiale che abbiamo visto prima ovviamente il risultato lì in quel caso è veramente ottimale come abbiamo visto possiamo creare letteralmente da zero a costo zero delle pagine da colorare quindi quello che poi devo andare a fare una volta creata tutta la mia selezione di pagine da colorare è andare su condividi scarica e vado a selezionarmi quelle che sono le pagine che ho fatto quindi magari se c'è qualcosa o qualche progetto che non c'entra niente lo deseleziono però poi vado a fare a selezionare tutto e vado a fare pdf standard e vado a fare fatto e scarico una volta che io poi ho scaricato dovrò tornare su Canva e crearci dei mockup come abbiamo visto prima per il nostro articolo quando parlo di mockup se vado a scrivere su Etsy coloring pages kawaii quello che posso andare a fare per esempio è cliccare su uno di questi prodotti e vedere come sono diciamo mockupizzati ovvero come vengono poi presentati all'interno di Etsy perché noi abbiamo si creato la pagina da colorare ma non l'abbiamo messa così per esempio come puoi vedere qua illustrata per bene con le varie grafiche e tutto quanto quindi dobbiamo andare a fare questa cosa qui e nel prossimo video voglio mostrarti esattamente come andare a fare i mockup per le nostre creazioni ovviamente in modo molto migliore di questo ma cercando appunto di essere migliori della concorrenza e ti mostrerò esattamente come andare a caricare il prodotto poi una volta finito una volta che abbiamo finito il prodotto dove si caricherà il prodotto che scarica il cliente quindi il download il file digitale ti mostrerò dove si carica ti mostrerò come creare appunto le copertine del negozio che sono queste qua che stiamo vedendo ti mostrerò come scrivere il titolo i tag la descrizione quindi se vuoi vedere la seconda parte di questo video mi raccomando raggiungiamo i 50 like so che sono pochi però per me è un inizio perché sto cercando di far crescere questo canale appunto perché voglio darvi tanto tanto valore cerchiamo di arrivarci in breve tempo così te lo porto il prima possibile come hai visto abbiamo creato delle semplici pagine da colorare che possono essere rivendute su Etsy abbiamo visto qual è il potenziale di questi prodotti quanto vendono e quanto è semplice in realtà utilizzare l'intelligenza artificiale unita agli altri strumenti che abbiamo visto in questo video per poter creare dei prodotti digitali da poter rivendere immediatamente all'interno di Etsy e tutto questo a costo zero ora se ti è piaciuto questo video sicuramente vorrai un continuo vorrai capire come poterlo caricare su Etsy vorresti capire come poter creare dei mockup delle copertine e vi dicendo bene allora al raggiungimento di 50 like rilascerò la seconda parte dove andrò a mostrarti come poter andare a mockup di fare queste pagine da colorare e poi ti mostrerò step by step il processo di caricamento all'interno di un account Etsy di come poter caricare questo prodotto nella maniera corretta e lanciarlo sul mercato quindi ti invito a condividere a lasciare un like a lasciare i commenti se vuoi la parte 2 di questo video e prima di chiudere questo video voglio farti capire che possiamo aiutare anche te come hai visto io sono un esperto in questo campo e prima di chiudere questo video voglio invitarti a prendere una decisione importante nella tua vita e cambiare radicalmente quello che stai passando adesso in questo momento quindi se questo modello di business ti intriga e hai visto e ti piace vorresti iniziarlo perché è di una semplicità disarmante ma devi saper fare le cose giuste nella maniera giusta perché il 99% delle persone il 99% dei venditori lì fuori non sa vendere su Etsy io posso insegnarti letteralmente al 100% ad avviare il tuo negozio di successo come ho fatto con tutti i miei studenti quindi ti invito a prenotare una consulenza gratuita conoscitiva direttamente con me trovi il link in descrizione e se vuoi parlare direttamente con me ti invito caldamente a seguirmi su Instagram perché avrai modo di poter parlare di più con me e lì ovviamente rilascio anche tante piccole tips tante piccole strategie all'interno dei miei canali che potrebbero tornarti utili quindi scrivimi direttamente in direct su Instagram la parola inizio se vorrai ovviamente iniziare a farti seguire seriamente a fare soldi ricordati di iscriverti di lasciare un like commentare e condividere noi ci vediamo al prossimo video ciao